Ed è importante che anche l'Unione Europea faccia la sua parte. Nelle prossime ore sentirò anche i miei omologhi inglese, francese e tedesco. Vorrei lavorare insieme a loro ad una seconda missione in Libia, magari a guida europea, che possa prevedere quindi anche la presenza del nuovo commissario Borrell. Ma ci lavoreremo perché è molto importante far sentire anche la presenza dell'Unione Europea in un paese, la Libia, a cui dobbiamo garantire sovranità e unità. E lo faremo col massimo dell'impegno. Lo faremo consapevoli del fatto che l'Italia deve riprendersi il suo ruolo naturale in Libia, che è quello di principale interlocutore. Ho avuto modo di incontrare anche il Ministro degli Esteri Libico, il Vice Presidente del Consiglio, e a tutti ho detto chiaramente che l'Italia vuole aiutare in prima linea adesso con un inviato speciale e con la promozione di un'iniziativa europea. daremo il massimo supporto affinché la conferenza di Berlino, che speriamo possa individuare una data il prima possibile, e l'inviato speciale Salamè, possano essere messi nelle migliori condizioni per arrivare ad un cessato del fuoco.